Ritardatario cronico, un ottambulismo obbligatorio Tu che mi aspettavi a cena e parli con la luna piena Che male c'è? Non è nemmeno mezzanotte ancora Allora tu perché? Mi strilli viola alla buon'ora Mi strilli viola alla buon'ora Mi strilli viola alla buon'ora Ladies and gentlemen, madame, messie Il fantasmagorico azzurrissimo Simone Lemmo Eccoci qui, buonasera, buonanotte Bentornati alla buon'ora Il nostro giovedì insieme Penultimo appuntamento della settimana Ci siamo anche in questo giovedì Subito dopo Stato dell'arte Pronti a raccontarvi le nostre storie Le nostre emozioni con tanti amici Con tanti ospiti come ti consueto Perché ormai lo sapete che qui in queste poltroni In questo loft passa la vita Da tutti i punti di vista possibili A volte emozionante, a volte toccante, a volte commovente Ma anche i tratti irriverenti Voi intanto continuate ad essere protagonisti con il nostro hashtag social Quello della buon'ora Ma recuperate tutte le nostre storie, le nostre puntate Sul sito di Cusano Italia TV Azzurro, non lo so perché Io lo chiedo a lui, al nostro PG Oh, alla buon'ora Simone Ma perché azzurro? Perché ho visto il film di Paolo Conte Che è l'autore di Azzurro Ah, quindi siamo già azzurro di Paolo Conte Ma sai che parleremo di qualcosa? Perché Paolo Conte è alla Scala È stato al cinema praticamente fino a ieri Ma sai che oggi parleremo di Scala, parleremo di arte Tutto torna Tutto torna nella vita E quindi c'è dell'azzurrismo dentro di te Anche dietro di me in questo momento Anche c'è la tua giacca, un po' di blu Eh, blu notte Poi nelle nostre poltrone c'è un po' di azzurro Insomma ci sono delle azzurrità Azzurro, vabbè È quella, è quella È quella, non lo so che era quella Detto questo, prima di... Perché ho una sorpresina Perché so che tu non sai No, cosa? Eh, vedrai tra poco Chi è l'ospite? Lo sai chi è l'ospite? Ah, mi sa che c'è una sorpresa C'è una sorpresa per tutti Perché non lo sa nessuno Vabbè, arriviamo Perché ogni promessa è debito Giusto Ogni promessa è debito Ma prima, a proposito di promesse Ci sono delle promesse che noi possiamo fare A noi stessi e agli altri Quelle promesse che basta davvero poco Per mantenerle, per realizzarle Perché fino a domenica c'è un numero importante Da ricordare che è il 45587 Possiamo donare 2 euro tramite sms Oppure 5-10 euro tramite rete fissa Per cambiare la vita dei malati di leucemia Basta davvero un piccolo gesto Per regalare un Natale migliore Oppure magari oltre alla donazione Possiamo anche, che ne so Comprare una stella di Natale Una scatola di cioccolatini Per noi da regalare a qualcuno E le trovate in tutte le piazze d'Italia L'8, il 9 e il 10 dicembre Aiutiamo l'AIL Cambiamo la vita E rendiamo il Natale un po' più felice A chi purtroppo in questo momento È meno sereno di noi Quindi grazie di cuore sempre 45587 Per quello che farete adesso Lei è un'amica Dopo stato dell'arte non potevamo che avere lei Giusto Io ve l'avevo promesso Che prima o poi sarebbe venuta a trovarci A fare una bella chiacchierata Perché lei ogni volta fa la pillolina nel salotto Però Vogliamo una pillolona Vogliamo la pillolona Questa sera alla buonora In esclusiva Elisabetta Roncati Ciao Eli Ciao Simo Benvenuta Accomodati Accomodati Ma siete proprio sicuri? Siamo sicuri Una pillolona d'arte Eccolo qua Pillolona Pillolona Siamo felici Perché poi E io dico Loro insomma Affetti ormai stabilissimi Nel nostro salotto Si conversa Si chiacchiera Però tu sei la prima del salotto Che sdogana L'intervista face to face Pensa tu E ci voleva l'arte per farlo Ci voleva l'arte Però questo è anche Non so più se è una minaccia O una promessa Per tutti gli altri 14 Pensa che una volta Mi ha detto che la farà anche con me Sono preoccupatissimo Ragazzi da qui fino alla fine della stagione A giro secondo me Toccherà un po' a tutti E vi toccherà Perché Non so Eli Se tu sai Un po' sì che Questo è il momento un po' intimo Dove entriamo Nella vita Confessione 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 Siamo io e te Che ci guardiamo negli occhi Che ci raccontiamo Piggi ogni tanto Come abbiamo detto lunedì Che strimpella Che fa lo zampugnaro Ma ce lo vedi Elisabetta Piggi zampugnaro? Ma io ce lo vedo molto Ti dirò L'atmosfera natalizia È perfetta C'è Non so se essere contento Ma era un complimento Anche perché poi tra l'altro Chiudo questo argomento Dicendo che Piggi lunedì Ci ha detto Che lo zampugnaro I suoi tempi Gli lasciavano correre i soldi dietro Lui ha detto Anche a me da giovane Lasciavano correre qualcosa Ma non ci ha detto cosa Allora Innanzitutto questo Ai suoi tempi Adesso me ne vado Qualche anno fa Ma due anni Prima che nascessi te Evidentemente C'era questa usanza Dalle mie parti a Roma Nei quartieri che abitavo io E succedeva questo Passavo lo zampugnaro E le persone Chi stava in strada O chi dal balcone Gli lanciavano dei soldini All'epoca i soldini Erano anche molto spesso Banconote E quindi Gli lanciavano banconote Ma piccole cose Ma comunque Non hai ancora detto Che cose lanciavano a te Svela il mistero A me niente Sarei inventato Simona A me non andavo Perché io ero sopra Ero nel balcone Ah quindi tu eri Quello che sganciava Ero il lanciatore Ok eri il lanciatore Elisabetta Io sono felice Di averti qua E sono felice Che tu abbia accettato Il nostro invito Per raccontarti Per raccontare Un po' di te Perché poi c'è sempre Ogni settimana Quel momento Che noi attendiamo Quel momento Dedicato all'arte Alle curiosità E vorrei partire Da una cosa Molto bella Che qualche settimana fa La nostra Valeria Rossi Ha detto durante un salotto Proprio in tua presenza Ha detto Quando parla Elisabetta Di arte Io l'ascolto E per me diventa tutto facile Partiamo da qui Dal fatto che Tu sei una di quelle Che ha reso Fruibile L'arte A tutti Tramite i social Ma anche tramite Una strategia di comunicazione Che è quella Della semplicità Di renderla una cosa Forse meno illitaria Come si pensa Ah hai proprio ragione E mi ricollego a Pigi Cioè alla mia epoca Perché devi sapere Che io ho iniziato nel 2018 E non sembra tanto tempo fa In realtà Se si parla di digitale Gli anni corrono come non mai E soprattutto Le tecnologie avanzano E quando ho iniziato io Nel 2018 Le modalità di comunicazione Di fruizione dell'arte E della cultura Erano diversissime Il grande Gap Che noi abbiamo superato È stato Derivante dalla pandemia Ovvero Pre-pandemia Diciamo che Condividere arte e cultura Utilizzando i social media Che all'epoca Erano solo Determinate piattaforme Le piattaforme meta Era qualcosa di inusuale E per usare una metafora Sai che a volte Anzi sapete che a volte Mi piace parlare per metafore Sembrava quasi di entrare In un luogo sacro E di fare qualcosa Di non canonico Non normale Di banalizzare Un ambito Un settore Che in Italia Ha un'estrema importanza Noi siamo ricchissimi Ovviamente Di patrimonio artistico Culturale All'epoca Non c'erano ancora i video Perché i sistemi Di sharing Di condivisione Non permettevano L'utilizzo Di queste forme Di comunicazione Quindi si Trasmetteva Arte e cultura Come moda Come make up Come tutti gli altri Settori economici Tramite delle fotografie Quindi io cosa Ho fatto Non sono stata la prima Perché ci sono state Anche altre ragazze Ma non c'erano I reels Le cose Sono anziana In 2018 Non c'erano Anziana Ecco questa è una cosa Interessante Cioè guardate come In brevissimo tempo Oggi è quasi Cioè non si riesce A fare a meno È diventata un principale E invece sono passati Davvero pochissimi anni Non c'erano nemmeno Le storie Pigi C'era solo Il formato Formato fotografico Che cosa strana Che cosa strana Ma tu te lo ricordi Era tanto tempo No era due giorni fa Come è che è possibile È cambiato tutto In due giorni No ma tra l'altro Poi una cosa Ripeto Io un po' Ce l'ho questa passione Perché anche io Insomma quando andavo a scuola Anche all'università Ho sempre cercato poi Soprattutto all'università Avendo anche la possibilità Di sceglierle Delle materie Di mettere sempre Delle materie artistiche Storie dell'arte moderna Storie dell'arte contemporanea Che sono un po' Quelle che mi appassionano di più Sempre Però avendo una forte convinzione Tu dicevi prima Noi siamo un paese Che ha un grandissimo patrimonio Abbiamo le cose davvero A portata di mano Sotto gli occhi Per citare il programma Che ci precede Che è stato dell'arte Salutiamo Cesare Biasini selvaggi Qual è lo stato dell'arte Nel 2023 Secondo te Ma guarda Lo stato dell'arte Sicuramente Dirò una banalità Si è modificato E si è aperto Tornando al discorso di prima Post pandemia Anche le istituzioni culturali italiane Perché dobbiamo fare un distinguo Rispetto all'estero Si sono accorte Dell'importanza Di comunicare Con ampie fette di pubblico E ovviamente Causa quel bruttissimo periodo Che abbiamo passato In anni recenti Le forme di contatto Vis a vis Non erano disponibili E quindi sono Diciamo State adottate Delle metodologie Che venivano già adottate Nell'ambito della moda Nell'ambito appunto Di altri settori economici Ovvero lo sfruttamento L'utilizzo dei social media C'è stata anche Una grande diatriba Perché inizialmente Alcune categorie professionali Come possiamo pensare I giornalisti Derivanti dalla carta stampata Piuttosto che i curatori I critici Vedevano un po' con sospetto Queste nuove figure Non si riuscivano a collocare All'interno del sistema Per tornare al discorso Dello stato dell'arte E ora si è compreso Che invece bisogna Camminare a braccetto Cioè nulla esclude Ciò che ci precede Quindi nulla esclude L'articolo sulla carta stampata Al testo curatoriale Che può essere poi affiancato Per divulgare In maniera più ampia Un concetto Dai mezzi Dai mezzi digitali E lì io prima dicevo Quanto è forte Quanto è forte Quanto è forte la nostra Visto che lei Noi la conosciamo come Artblogger Come la versione Tanti nomi Tanti nomi Le nomenclature Si sprecano Come vuoi essere chiamata? Ma in realtà Inizialmente io mi vergognavo Mi vergognavo di essere definita Un influencer Perché all'epoca Questo termine mi piace molto Quando dice all'epoca Intende 2018 L'anno prossimo invece Della buonora La chiamavo all'epoca All'epoca Influencer Erano solo delle persone Che parlavano di fashion Di outfit E normalmente Essendo una ragazza Una donna Tu venivi categorizzata Come una persona Non professionale Che sapeva solo Mettersi in posa E fare Fare dei bei Dei belli scatti In realtà Ora ci sono Ci sono anche altre Terminologie Che io preferisco Come quella Di divulgatore scientifico Che non è solo Attinente alla scienza Vera e propria Ma anche alle scienze Umanistiche Oppure creator digitale Che ampliano Un po' il concetto E quindi io In passato cercavo Dei sinonimi Di influencer E ahimè In lingua inglese C'erano solo Share Quindi una persona Che condivide Delle informazioni E content creator Cioè creatore di contenuti Comunque Pidge In generale Tutto tranne Come la chiamiamo noi Da tre mesi Noi in tre mesi La chiamiamo art blogger E l'unica cosa Che lei non ha detto In blog in realtà Abbiamo sbagliato Perché la parola blog Mi sa che è una parola d'epoca Bravo Ma talmente educata Elisabetta Che non ci ha detto Ma come mi state chiamate Cioè non l'ha detto Va bene Devi distinguere Devi distinguere Tra la prima generazione Di content creator E la nuova generazione Di persone Che utilizzano i social Con questo scopo La prima generazione La generazione Per far capire Anche al nostro pubblico Di Chiara Ferragni Cioè di persone Che sono nate A fine degli anni 80 E venivano definiti E sono nate da un blog Cioè sono nate Scrivendo online La stessa Chiara Ferragni Aveva il famoso blog The Blonde Salad Ora questa metodologia Quasi non esiste più O meglio I blog ci sono ancora Però Ci sono dei content creator Molto famosi Per tornare alla musica Ci sono già state Delle anteprime su Sanremo E ci sono dei ragazzi Che sono nati Come content creator Ma senza scrivere Cioè sono addirittura Nati E sono diventati famosi Su un'altra piattaforma Che non è appartenente a Meta Ma che è TikTok Invece una volta Per emergere Visto che le piattaforme social Davano solo una possibilità Limitata di contenuto Quindi di fotografia Non c'erano i video Come abbiamo detto Tendenzialmente I creatori di contenuti Cosiddetti influencer Partivano da un blog E poi sviluppavano Tutta una rete Di profili Attinenti ai social Quindi ormai il blog È un po' passato Cioè uno può diventare È d'epoca Sì Può diventare Un creator Con i social e basta Io mi ricordo MySpace Quindi C'era proprio d'epoca D'epoca Il tuo c'era Internet Explorer Esatto Anche prima Windows XP Ricordo addirittura Di quando non c'era proprio Non c'era C'era lo YouTuber Che nasceva con YouTube E il blogger Che nasceva poi Con un blog Prima dicevo Chi pensa Simona Tu non lo sai Mi sa perché C'è stato un tempo Che non c'era proprio Internet Ah pure Sai che non me lo ricordo No dicevo prima No facendo riferimento Un po' all'esperienza personale Dicevo agli anni della scuola La passione delle cose Che poi Ho anche Nel mio caso A piccole dosi Mantenuto Nella mia vita Per curiosità E interesse personale Però tu ci hai raccontato Un po' il tuo percorso professionale Cioè quello che è successo Dal 2018 in poi Però Noi qui raccontiamo Anche l'aspetto strettamente umano Quello che significa vita Da tutti i punti di vista possibili Facciamo un passo indietro Che bambina sei stata Elisabetta Allora ti dico la verità Sono stata una bambina Molto indipendente Figlia unica Convinta Perché non Non era abituata Ad avere Una famiglia Grande Ampia Allargata Intorno Quindi pochi cugini Perché mia madre Figlia unica Mio papà Un fratello solo Quindi ho uno zio solo E un po' forse Senza accorgermi Ne ho sofferto Di questa Fra virgolette Solitudine a casa Ma una bambina Che leggeva molto E sostanzialmente Una bambina felice In realtà Il grosso gap Io l'ho avuto Molto più tardi Addirittura Dopo l'adolescenza Già Già in età adulta Perché Forse la scintilla Che ha fatto scoccare Quest'attività professionale È nata Da una forma di rivalsa Perché purtroppo Io ho vissuto Un'esperienza Poco piacevole A livello personale Come molte Molte donne E di cui non riuscivo A liberarmi Una relazione Che non era fatta Per me E non era fatta Nemmeno Diciamo Per la controparte Maschile E che ci stava Distruggendo Ad entrambi Ci stava distruggendo Ad entrambi E io ho trovato Nel Nel mezzo digitale Una forma di Evasione Da una quotidianità Che mi stava Mi stava stritolando E in quel periodo Difficile della vita No? In cui cercavi Delle vie di fuga In cui cercavi Degli strumenti Come dire Delle ancori Di salvezza Quando ti riguardavi Ti cercavi Nel tuo sguardo Ti trovavi Oppure facevi Un po' fatica A riconoscere La vera essenza Di Elisabetta No Io mi ero totalmente Persa Mi ero totalmente Persa Perché Mi ero voluta Uniformare A un modello Di Elisabetta Che non mi apparteneva Al modello Di Elisabetta Che io avevo Assorbito Anche vivendo A Milano Quindi un modello Anche di fisicità Che non mi apparteneva Perché mi costringevo A mangiare molto poco Per rispettare Dei canoni Anche di immagine Di comunicazione Che io vedevo Riproposti Stiamo parlando Molto prima Del blog Quindi Dal 2013 in avanti Fino ad arrivare Al 2018 Quindi io vedevo Questa E meno male Che siamo progrediti Questa forma Di bellezza Caucasica Alta Magra E non potevo Ovviamente intervenire Sulla mia altezza Però intervenivo Su altri aspetti Mi tingevo Costantemente i capelli Pensa che io Non riuscivo ad uscire Se non avevo Le ciglia finte applicate E sono arrivata A un certo punto Che facendo Una banalissima Visita oculistica Il medico Che mi visitava Non capiva Cosa avessi Sopra le palpebre Perché Talmente utilizzavo Queste forme Di mascheramento E che io vedevo Come un miglioramento Del mio aspetto Che ormai Non riuscivo Quasi più a levare Capisci Il posticcio Perché era un utilizzo Che mi stava Fagocitando Mettevo tacchi Molto alti E mettevo Diciamo Volevo amplificare Le mie forme femminili Ti dico Di tutto Di tutto un po' Elisabetta Ma riguardandoti indietro Tu adesso racconti Tutto questo Davvero con grande Forza Con grande Rivalza È stato un percorso Come tutte le cose Nella vita Noi l'abbiamo raccontato In queste puntate Tante volte Che poi Le ferite del passato Non scompaiono Bisogna semplicemente O imparare a leccarle O imparare a ricucirle Ed è da lì Che poi si riparte Guardandoti indietro Quando ripensi A tutte queste cose Secondo te Elisabetta Nella vita è stata Più libera O più coraggiosa Alla fine dei conti È stata coraggiosa È stata coraggiosa Perché La vera battaglia Secondo me È la battaglia Con se stessi Io Mi autolimitavo La mia libertà Ed ero entrata In un tunnel Di cui non vedevo l'uscita E Ho avuto il coraggio E c'è stato Un episodio Che ha fatto scattare In me Questa forma Di rivalsa E che mi ha fatto Abbandonare tutto E mi ha fatto Avere il coraggio Di cominciare da zero Quindi veramente Con una valigia in mano In una città Che mi ha adottato Che è Milano Ma da cui io Non provengo Perché io sono nata Poco distante Per carità Ma sono nata in Liguria Con Senza avere i familiari Quindi nella stessa Intorno Comunque Nello stesso Nello stesso luogo Ho preso la mia valigia E mi sono adattata A trovare un'altra sistemazione Un'altra collocazione Nel mondo Prima di cambiare argomento E non tornarci più Ti chiedo solo un'ultima cosa Ma rispondemi solo se ti va Hai avuto paura? Sì Ho avuto tanta paura E ho capito fondamentalmente Che nessuno si salva da solo E che bisogna avere Il coraggio anche Di chiedere aiuto Nessuno si salva da solo Bisogna avere il coraggio Di chiedere aiuto Però devi essere convinto Di farlo Perché nel momento In cui una persona Ti dà una mano Ma tu non sei ancora pronto A riceverla Quell'aiuto Tu molto spesso Non lo segui E io Ho fatto così Mi sono state proposte Delle ancore di salvezza A cui aggrapparmi Ma forse Non ero pronta io Non ero convinta io E il tempo è passato Però è servito anche quello Io sono sempre stata Una persona che Da un certo punto di vista Metteva il turbo E dall'altra parte In realtà Ha fatto determinati Passaggi e percorsi In ritardo Rispetto Alle persone Della medesima età Però mi è servito Mi è servito anche quello Perché non ero pronta A fare determinati passi In un determinato Contesto temporale A proposito di battaglie Di passi Che vanno fatti E che vanno compiuti No tu dicevi Io nella vita Sono stata coraggiosa Alla fine dei conti Il coraggio significa Inevitabilmente anche Prendere le redine Della propria vita Come ci stavi raccontando E Assumersi la libertà totale Di essere quello che si è E quando parliamo Di concetto di identità Quando parliamo di persone Quando parliamo Di esseri umani Inevitabilmente Mi viene In mente Prima dicevamo Com'è lo stato dell'arte Nel 2023 La stessa domanda La potremmo declinare In tanti altri modi possibili Tipo chiederti Ma con i diritti A che punto siamo Con le battaglie Per esempio Per la comunità LGBTQ plus Per il mondo ecologico Eccetera eccetera E io credo Come poi Nel nostro piccolissimo Cerchiamo di fare Che c'è sempre Che c'è sempre Un filo conduttore Importante Che è quello Della parola E dell'ascolto Cioè ci sono delle cose Di cui comunque Bisogna parlare sempre Quando per esempio È scoppiata la guerra In Ucraina Una cosa che Pian piano È scomparsa Era il racconto Crudo della guerra Ed è quasi sembrato Cioè mi è quasi parso Che noi Ci fossimo Adattati A questo racconto Come se fosse scontato Così come tante altre cose Torniamo un attimo A quello che dicevo prima Sulle lotte Per esempio Delle comunità LGBTQ plus E il mondo queer E le proprie battaglie Questo è un racconto Che va fatto Quotidianamente Perché noi Non dobbiamo più Sentire parlare Di violenze di genere Che può essere Violenza sulle donne Quindi di femminicidio Ma devono essere Anche episodi Che dobbiamo Allontanare Cancellare Contro il bullismo Abbiamo parlato Qualche puntata fa Insieme alla dottoressa Luana Di Pietro Di un ragazzo Di 13 anni Che si è tolto la vita Perché è vittima Di bullismo A causa di omofobia E quando dico Di parlarne In tanti modi Parlo anche di libri Tu hai scritto Un libro Edito da Rizzoli Corpi, segni e storia Dal titolo Arte queer Che in qualche modo Permettimi di dirlo Io lo reputo Anche questa tua creazione Un manifesto Che può portare La luce Su qualcosa Che può davvero Fare la differenza Nel nostro mondo Nella nostra contemporaneità Perché è vero Tu parli dell'arte queer Però secondo me Ancora più importante Quello che c'è sotto Corpi Segni e storie Che vuol dire Inevitabilmente vita Assolutamente E ti dirò Si collega Anche alla parte precedente Della nostra chiacchierata Perché nella postfazione Io proprio racconto Senza andare nei dettagli Questo episodio Episodio di vita Perché nel momento In cui io avevo bisogno Una comunità Che mi ha accolta È stata la comunità LGBTQIA+. E ho trovato Quindi degli stranei A volte A volte si pensa Che dagli amici O da quelli Che si reputano amici Si possa avere Una mano Per andare avanti Ma Non si è magari Calibrato bene O attribuito In maniera In maniera Migliore Il termine amici O amiche A determinate persone E io l'ho trovato Invece da degli sconosciuti L'ho trovato Da delle persone Che avevano condiviso Con me Determinate sofferenze Però attenzione La sofferenza Non basta Cioè non basta Aver sofferto anche noi Per comprendere Il dolore altrui Quindi io sono partita Per scrivere Questo volume Edito da Rizzoli Mettendo le mani in pasta Quindi io prima Ho conosciuto E sono entrata Nella comunità Poi ne ho scritto Ma per scriverla Mi sono dovuta Anche informare Perché Il concetto appunto Di pietas O di patos Umano Non bastava C'è tutto un discorso Storico Da dover affrontare Che ahimè Molto spesso Non si trova In lingua italiana Quindi non si trovano Delle pubblicazioni Sul cosiddetto Stato dell'arte Vedi che Questo termine Continua Continua a tornare Come hai definito I limiti E il quadrato Che volevi Analizzare In questo libro Ma in realtà È stato difficile È stato difficile Perché è brutto Già di per sé Dare delle categorie Quindi racchiudere All'interno Di compartimenti Stagni Ciò che è inerente La creatività Che di per sé Deve essere libera Di fruire Però ahimè Ciò contrasta Con la metodologia Artistica Che viaggia Su dei binari Che sono costituiti Da delle correnti Da dei movimenti E se tu non trovi Dei nomi Sembra quasi Che tu non possa Parlarne In realtà Io ho trovato Delle metodologie Scientifiche Che abbiamo Sperimentato Assieme all'editore Perché appunto Non avevamo Una controparte In lingua italiana Questa è stata La prima pubblicazione Della prima pubblicazione Sul tema Totalmente Creata per il mercato Italiano E l'abbiamo trovata Nel voler Includere Degli artisti Che fossero Di più parti Del mondo possibile Quindi per Eliminare Una visione Eurocentrica Che molto spesso Domine Ha dominato Nel discorso storico Nel discorso culturale Nel discorso artistico E poi soprattutto Che i creativi E le creative Inserite nella pubblicazione Avessero perlomeno Un'opera Visibile In uno spazio pubblico In un'istituzione In un museo Elisabetta Tra pochissimo Rimarrai con noi Al salotto Perché quello è un appuntamento Parleremo di musica Attenzione È un appuntamento Che non potrai perdere Tra un istante Ci ricollegheremo A questo voglio chiederti Un'ultima cosa Per salutarti Nel senso Concludere questa parte Del programma Secondo te Alla fine dei conti Ti hanno capita? Dipende dal soggetto Io penso che Determinate persone Questo un po' Me ne dispiace Determinate persone Non mi abbiano compresa E sono le persone Da cui io Avrei voluto Farmi sentire Però mi sono messa L'anima in pace Perché non puoi Convincere Determinate Soggettività A sentire Delle urla Strozzate Se sei sordo Ad alcuni aspetti Forse non cambierai mai È brutto Perché levo un po' La speranza Però la penso così E invece tu Ti sei capita? Io mi sono capita Ma più che capita Io mi sono ritrovata E penso che questo Sia stato fondamentale Tra pochissimo Nel nostro salotto Con Elisabetta Parleremo di musica Parleremo della scala Di Milano Dicevamo ieri Si è concluso Questo appuntamento Paolo Conte Alla scala Tre giorni al cinema Allora se lo regali Un Paolo Conte Piggi Prima di andare In pubblicità Certi capivano Il jazz L'argenteria Spariva Ladri di stelle Di jazz Così eravamo noi Così eravamo noi Pochi capivano Il jazz Troppe cravate Sbagliate Sbagliate Ragazzi Scimmia del jazz Così eravamo noi Così eravamo noi Sotto le stelle Sotto le stelle del jazz Ma quanta notte è passata Marisa Sotto le stelle del jazz E' stato un sogno fortissimo Le donne Odiavano il jazz Non si capisce E' stato un sogno E' stato un sogno E' stato un sogno E' stato un sogno Sotto le stelle del jazz Sotto le stelle del jazz Un uomo scimmia Un uomo scimmia Cammina O forse balla Chissà Sotto la luna Del jazz E' stato un sogno E' stato un sogno E' stato un sogno E' stato un sogno C'è stato un sogno Grazie PG, pubblicità e torniamo tra pochissimo col salotto, aspettateci. Eccoci tornati alla buon'ora, il nostro penultimo appuntamento della settimana e grazie, mi verrebbe da dire come faccio ogni sera, Elisabetta Roncati per essere stata con noi, per essersi raccontata in tutta la sua interiorità, nel mondo della sua passione, ma Elisabetta Roncati è rimasta qui con noi. Buonasera e buonanotte, buonasera Elisabetta, lei ormai preparatissima, fa finta di niente, va avanti, perché ormai affetto stabile, però come ho detto prima, ogni promessa è debito, quindi Elisabetta è venuta per un faccia a faccia, toccherà anche agli altri amici del salotto, prima o poi, quindi PG, preparati perché toccherà anche a te, sappilo che prima o poi toccherà anche a te, e sicuramente capiterà anche la nostra regina della notte, Paola Aspri. Buonasera, buonanotte, io speravo di scamparla. Paola, io ho fatto una promessa, ho detto, noi, insomma lo sapete benissimo, all'inizio del programma abbiamo la prima parte che sono i faccia a faccia, quelli intensi, dedicati alle storie, alla vita, all'interiorità, anche alle carriere, e io ho promesso che avrei intervistato tutti voi del salotto, prima o poi. Con Elisabetta si è messa abbastanza a nudo, e di questa la ringrazio. Abbiamo rotto il ghiaccio. Hai rotto il ghiaccio, perché parliamo sempre di arte, invece abbiamo scoperto che poi c'è tanto altro dietro alla vita delle persone. Ma Elisabetta non mi sorprende questo, perché si legge nei suoi occhi. Ma anche dietro gli occhi di Paola Aspri si nascondono tante cose, Paola, avremo modo di raccontarvi. Ah, infatti, è quello, io sono molto emotiva poi, eh, quindi... Va bene, staremo a vedere, intanto saluto la dottoressa Francesca Santavaria Palombo, buonasera, buonanotte! Buonasera, buonanotte! Toccherà anche a lei, dottore, non so se è una minaccia o una promessa, pincina! È difficile darti una risposta a questa domanda. E invece abbiamo un grande onore, un grande privilegio, perché poi noi nel nostro salotto, come capita spesso e volentieri, accogliamo artisti pieni di talento, pieni di sogni da realizzare, chi è esordiente, chi pian piano, passo dopo passo sta costruendo la sua carriera. Io sono felice di dare benvenuto a un artista, tra l'altro lui è un cantautore romano Doc, agli inizi di ottobre uscito col suo singolo desordio dal titolo Blackout, che pensate ha definito come un tributo all'amore incondizionato di un figlio per sua madre, la Flam! Buonasera! Buonasera, buonasera, grazie per l'invito, felicissimo e onorato di essere qua. Ecco, te lo richiederemo alla fine, se ancora va. Cambierai del tutto idea. Cambierai del tutto idea, come stai Riccardo? Bene, vengo da una settimana di influenza totale, però resto bene. Benissimo, quindi ti sei ripreso giusto in tempo per la buonora. Assolutamente sì. Sono, dicevo, felice di averti qua perché poi quando si parla di talenti che crescono, di sogni che pian piano si realizzano, tu sei un cantautore emergente, questo è il tuo singolo desordio, però anche durante i nostri 60 secondi di Golden Minutes ci stavi raccontando che la musica, insomma la voglia di lottare per realizzare questo sogno, fa da sempre parte della tua vita ed è un blackout, è un singolo davvero che scava nel profondo dell'anima, che come dicevo prima è un tributo davvero molto autobiografico, molto emotivo di un figlio che racconta l'amore immenso che si può avere nei confronti di una madre. Assolutamente sì, io lo definisco un testamento di amore nei confronti di mia madre, perché comunque sia ne abbiamo passate tante e abbiamo un rapporto speciale come madre e figlio, ma anche dal punto di vista artistico perché lei comunque ha cantato e mi ha trasmesso questa passione per la musica, quindi di conseguenza volevo dirle quanto fosse importante lei per me e quanto ci sarò sempre nella sua vita, quindi perché non farlo tramite una canzone e per me questo è stato importantissimo e soprattutto vederla felice per il testo che le ho dedicato, per questo brano le è piaciuto tanto, io sono veramente molto molto contento. Una cosa che mi ha colpito Riccardo, tu hai detto quando è uscito il single, lo racconto, la storia di un desiderio profondo di proleteggerla da ogni sorta di dolore, che sia esso fisico o psicologico, di prenderla per mano, affiancarla con fermezza e aiutarla a superare le difficoltà di una vita che hanno costantemente messo alla prova la sua forza. Tu invece quanto sei stato forte? Sono stato abbastanza forte, anche io, come l'ha stata lei, ci siamo fatti forza, io e mia madre, così come mio fratello e anche un fratello, in particolar modo nel momento in cui è venuto a mancare papà, quindi di conseguenza è stato un momento molto molto duro, però ovviamente lei è rimasta da sola e quindi dovevo starla accanto, aveva bisogno di una figura accanto a sé e quindi sono stato forte sì, abbastanza, però non ce l'avrei fatto ovviamente anche senza di lei, è stata una cosa reciproca. Elisabetta, prima anche con te lo dicevamo, parlando in quel caso di arte, come ci sono delle cose che poi sono i nostri talenti che sono le nostre passioni che possono aiutarci a fare la differenza, io credo che ognuno di noi qui stasera ha avuto un momento di sconforto personale o familiare e si è aggrappato alla propria passione, ce l'ho raccontato prima Elisabetta alla propria flamme, in qualche modo, io l'ho raccontato insomma un po' confessandomi anche tante volte nella vita questo mestiere, prima il teatro, è stata per me un'ancora di salvezza, nel mio caso negli anni del bullismo però tu ci stavi dicendo anche nei momenti di difficoltà e Piggio ha detto una cosa molto bella, ha quella fiamma che arde dentro di noi forse anche lì la scelta di questo nome d'arte non è poi così casuale perché finalmente è tornata ad esserci una fiamma esattamente, la flamme rappresenta la fiamma ardente della musica che ha ricominciato a scorrere incessantemente e più prepotente che mai dentro di me e quindi volevo fargli un tributo alla forza che si può avere, alla passione che si può avere per la musica che per me è fondamentale nella vita di ognuno la musica è importantissima, penso che qualsiasi persona non possa vivere senza musica e fa parte di ogni giornata della nostra vita Paola tu che sei attenta, ce lo dicevi anche martedì beh vedi io mi commuovo perché quando sento parlare delle mamme mi commuovo perché c'è qualche attinenza anche con me quando lui parlava di questa mamma rimasta da sola senza più il marito, insomma il compagno di una vita quindi questa cosa mi ha colpito, scusate però perché ho avuto una cosa simile nella mia famiglia ma poi io credo che inevitabilmente ci sono anche lì dei sentimenti, dei rapporti che col tempo rimangono insomma inscalfibili ci sono delle cose per esempio io lo vedo anche con me, con la mia famiglia, i miei genitori, i miei nonni inevitabilmente siamo molto lontani, chilometri e chilometri è una cosa che a me ha aiutato la scrittura tantissimo era quella la fiamma che c'era in qualche modo dentro e ancora lo è in realtà un pochino io sono una che parla tanto, vedi che si dà anche in altre cose però la scrittura è quella che mi si addisce di più perché con quella sono riuscita anche a stemperare i miei dolori la morte di una mamma quindi ecco perché non voglio adesso togliere la scena a lui ovviamente ma era solamente per dire che a volte le passioni ci aiutano ad andare avanti inseguite sempre le vostre passioni, i vostri talenti che fanno davvero la differenza allora facciamo così, ci riprendiamo un attimo sorridendo perché io voglio mettervi alla prova ma tu che orecchio hai Riccardo? buono come va? ma sei sicuro? perché vedi che qua stiamo per testarlo perché qua ogni promessa è in debito giochiamo a senti chi parla! allora ci tocca se l'aveva minacciato se l'aveva minacciato è il momento di giocare a senti chi parla ascolteremo le voci di alcuni personaggi famosissimi voi dovete svelare la loro identità sentiamo i vostri tasti per prenotarvi Elisabetta? mech mech Riccardo? ma ma bellissimo Pigi paola? drindrino dai dottoressa? evito allora come di consueto li hai ricordati? no allora sentiamo la prima voce misteriosa attenzione è proprio questa io praticamente stavo già esultando dietro le quinte prima che appunto annunciassero il vincitore perché per me già essere nei primi tre è una roba fuori di testa finché sono stato lì a Sanremo è stato tutto un viaggio un viaggione quella settimana perché comunque non metti mai i piedi nella realtà allora Elisabetta si è prenotata subito poi tu che avresti detto? Mahmood ovviamente e Mahmood e Mahmood bravi che parlava della vittoria al festival del Sanremo del 2019 tra l'altro che torna in gara anche quest'anno giusto chissà il quarto festival di Mahmood i tre precedenti li ha vinti ma quando ha vinto una da giovani una da giovani giusto? sì ha vinto un Sanremo giovani ha vinto soldi nel 2019 e poi i brividi quindi due no Sanremo giovani no scusate ma facciamo un tributo anche musicale dimenticano il 2016 io 17 forse tu ti riferisci al fatto che quando ha vinto con soldi veniva dalla gara giovani quindi ha vinto la gara giovani è passata in biglio e ha vinto dei biglio ma nello stesso anno quindi da biglio questo è il terzo e due sono stati vinti però fece anche un giovani da solo nel 2016 mi sembra o 17 e poi ci saremmo giovani da solo con un brano che si chiama Dimentica che forse non è abbastanza conosciuto è normale che c'è la flamma stasera perché io non ci ho capito niente ragazzi Riccardo vai giochi vabbè noi andiamo avanti seconda voce miseriosa dovevo fare grande grande canzone bellissima di Mina e i miei primi concorsi cantavano solo le sue canzoni e grande grande dovevo fare una finalissima di canzonissima purtroppo Trindrida Trindrida Paola Paola è venuta e lo vuole dire subito Orietta Berti è Orietta Berti è Orietta Berti brava Paola ultima voce ultimo personaggio attenzione io avevo un lavoro che era un disastro perché pensavo di non valere niente e quindi al massimo facevo ospitate in programmi diciamo così del pomeriggio e pensavo di non poter fare altro cioè quello per me era quello che io meritavo beh ma facciamogli dire qualcos'altro a sta ragazza è finita ripita riascoltiamolo riascoltiamolo dai io avevo un lavoro che era un disastro perché pensavo di non valere niente e quindi al massimo facevo ospitate Selvaggia Lucarelli è Selvaggia Lucarelli è Selvaggia Lucarelli è Selvaggia Lucarelli brava Elisabetta che orecchio che orecchio ma poi ha vinto scusi ha vinto Elisabetta e allora siccome ha vinto ed è stata brava le tocca pagare pegno come? lui al contrario è il momento dell'arte raccontata dalla Eli paglia pegno allora vi avevamo promesso prima della pubblicità il momento dedicato alla scala perché prima della scala di Milano è finita anche non troppo tempo fa non troppo tempo fa alla buon'ora si è aperta la stagione lirica del teatro alla scala con il Don Carlo di Giuseppe Verdi quindi una giornata particolarissima per Milano siamo durante il Ponte dell'Immacolata Sant'Ambrogio un sacco di personalità che hanno partecipato alla premiere un po' meno rispetto allo scorso anno però vabbè non siamo mai contenti diciamo e che cosa è successo in questo Don Carlo? doveva esserci la partecipazione di una personalità molto in vista nell'ambito della musica che doveva interpretare il grande inquisitore che è uno dei personaggi della pièce in realtà non è stato bene non è stato bene nemmeno le prove quindi è stato sostituito io non vi svelo di più perché so che poi oltre ad essere andata in diretta in un canale televisivo si può vedere sarà ovviamente replica in teatro e quindi dovrete indovinare quale delle persone sul palco interpreterà due ruoli brevemente il Don Carlo ti vorrei andare a chiedere ma tu quanti vuoi interpretare? quando ti hanno chiamato per fare l'altro ruolo? se c'hai da indovinare però devi fare arra arra il Don Carlo è una pièce che è stata musicata da Giuseppe Verdi nel 1867 per l'Opera di Parigi poi è arrivata in Italia in una versione ridotta in quattro atti nel 1884 in realtà è arrivata anche un po' prima ma diciamo che la prima rappresentazione alla scala è del 1884 e l'hanno considerata detta dei critici anche un'opera molto al passo coi tempi perché ahimè è una tragedia d'amore perché il Don Carlo il protagonista non a caso guardate il nome doveva maritarsi con Elisabetta di Valois in realtà per dovere politico lei poi viene concessa e sposa a suo padre che era Filippo II il re di Spagna quindi siamo intorno ambientata nel 1568 e fa vedere come a volte lo spirito personale contrasti con l'assolutismo contrasti con il dovere pubblico e politico e come sia importante anche la liberazione dei popoli oppressi quindi il dissidio padri figli dissidio intergenerazionale il potere temporale versus il potere invece religioso perché c'è questo grande inquisitore questa figura che compare all'interno dei quattro atti e poi anche la liberazione dei popoli oppressi già nella prima giovani che si tiene qualche giorno prima della premiere di questa sera si è tenuta i commentatori della generazione Z l'hanno definita proprio un'opera azzeccata per i tempi che stiamo vivendo quindi vediamo come anche la lirica riesca ad arrivare ad un pubblico il più ampio possibile riesca anche a catturare le nuove generazioni e di questo siamo molto molto felici grazie prima diciamo di Paolo Conte alla scala adesso ma tu stavi alludendo a Elisabetta e Carlo capito ti pare che qua facciamo per tirare le bambo le vigi allora io ringrazio sempre Elisabetta che ci porta insomma dietro queste curiosità davvero straordinarie allora credo che non abbiamo più il collegamento con la dottoressa mi pare di capire allora la recuperiamo se riusciamo entro la fine della puntata però posso dare dei consigli psicologici io se no no grazie come se come se come se direbbe Angelina Mango invece a proposito di cose che possono aiutare noi a fare la differenza che possono aiutare la vita di chi in questo momento non è proprio sereno sta un po' come dire meno bene di noi è quello della donazione grazie a Elisabetta donare è davvero un gesto che può salvare la vita ve lo ripeto da quattro giorni a questa parte per un malato di leucemia la buona stella possiamo essere noi fino a domenica possiamo donare due, cinque, dieci euro al quattro, cinque, cinque, otto, sette oppure domani e poi sabato e poi domenica in tutte le piazze d'Italia troverete le stelle di Natale dell'AIL che possono davvero cambiare la vita a chi in questo momento ha più bisogno di noi e come sempre grazie di cuore per quello che farete grazie all'AIL soprattutto per l'impegno l'amore la costanza la dedizione dei tanti professionisti ma anche dei tanti dei tanti volontari che segno sei Riccardo? Sagittario Sagittario Paola è nel podio il Sagittario? No non è nel podio per il semplice fatto che questo weekend abbiamo praticamente la luna in Scorpione sabato e domenica e quindi va a diciamo a graziare e a rendere felici tutti i segni d'acqua quindi cominciamo con il cancro che sul podio sarà un weekend passionale con la luna in Scorpione e venere nello stesso segno venere in Scorpione non vi risparmierete anche con il partner quindi sarete pronti a guidare una maratona sessuale da incorniciare e chi è single non resterà da solo in questi giorni in cui basta uno sguardo per mietere una vittima o varie vittime quindi la parola d'ordine è maratona sessuale Sabrina Periglia del segno del cancro che cosa ha fatto? è andata giorni fa a New York e ha scoperto un ristorante a Manhattan a Manhattan molto particolare che faceva un dolce tra i preferiti suoi anzi preferito per antonomasia che è il cannolo alla siciliana lo ha postato su Instagram mettendo cannolo siciliano super doveva scoprirlo a Manhattan guarda caso Scorpione Scorpione segno d'acqua siete il simbolo del testo lo sappiamo e in questo weekend con la luna nel tuo segno non date tregua a nessuno amanti compresi quindi ogni luogo è buono per consumare anche la cucina voi cucinate lo sappiamo siete dei cuochi privilegiati ma allo stesso tempo sperimenterete il tavolo da cucina con il pattern come il postino suona sempre due volte con Jack Nicholson ve lo ricordate andate a guardarlo parola d'ordine è consumate da per tutto Joaquin Phoenix grandissimo attore da Joker dove ha perso 23 kg è passato a Napoleone ovviamente a ruolo di Napoleone bellissimo devo dire un uomo stupendo io lo adoro e diciamo che lui che cosa ha fatto è un ambientalista però ha portato dei copricapio per Napoleone che arrivavano dalla corteccia di un albero in Uganda va bene io devo dire tra il cannolo a Manhattan di Sabrina Ferilli e queste cose della corteccia sono grandi quanti alberi avrà abbattuto pochi diciamo non è che è molto in linea con il suo essere ambientalista tutto qui pesci segno d'acqua nel weekend avete l'opportunità di concedervi al partner il consiglio è di portarlo alle terme tra un bagno e l'altro il caldo tepore dell'ambiente beh potete lanciarvi in amplessi vissuti frettolosamente perché avete paura di essere scoperti ma l'occasione per voi fa l'uomo ladro e a te queste cose accendono il desiderio parola d'ordine è weekend caldo Francesca Michelin che cosa ha fatto snobba lo spritz liscio perché durante un podcast in best friends Florenzia dice appunto che lei lo spritz liscio è acqua fresca nel senso che solo viene acqua effettivamente predilige il telect e il cinava beh bevicchia bene bene grazie a Paola Astri devo dire tra quelli che bevono quelli dei cannoli è tutto meraviglioso posso dire Piggi ma tu che fai questo weekend invece a parte ma tu trinchi di nascosto a Spichisi stavo di domenica a Spichisi devi capire questa cosa negli anni 20 non si potevano vendere gli alcolici hanno inventato gli Spichisi che erano i locali clandestini adesso invece hanno proibito la cultura questo è il gioco della trasmissione quindi noi facciamo uno Spichisi clandestino culturale però invece gli alcolici sono banditi posso dire una cosa sei un carbonaro della cultura ma brava bravo non a caso lui voleva mangiare la carbonara vabbè comunque questo è un gioco di bravo beh carbonaro è un carbonaro lo sa che vuol dire vabbè era un gioco di bravo però la carbonara potrebbe essere il mio consiglio psicologico basta va bene fare una carbonara che poi in effetti possiamo fare una cosa tu ti mangi la carbonara io e il cannolo alla siciliana vabbè comunque ormai mezzanotte e mezza quasi ci siamo quindi due spaghi si possono fare voi che farete nel weekend invece forse c'è vado a ballare bene lei tu che progetti ma io devo girare qualche nuovo contenuto sempre artistico culturale ma tu che farai dopo domani content creator beh mi mangia il cannolo alla siciliana però non vado fino a Manhattan ma tutto il weekend stai a mangiare questo cannolo paura che hai detto tutto il weekend a mangiare questo cannolo è molto bravo il cannolo insomma insieme a qualcun altro vediamo insomma va bene come Lilli e il vagabondo uno da una parte uno dall'altro viva la giornata vivo la giornata bene vivere volevo dare qualche altro consiglio basta ma che gli ho preso stasera se possibile basta a proposito invece di Natale noi domani dedicheremo tutta la puntata del venerdì essendo ormai 8 dicembre però immacolata concezione domani dedicheremo tutto il nostro salotto alla insomma una giornata di festa con tanti amici con tanti ospiti parleremo di Natale domani parleremo di festival di Sanremo quindi domani è senza di te tu devi andare a cercare gli alcolici per spicchisi io voglio parlare di Sanremo domani parleremo del festival di Sanremo con tanti amici studio sono il massimo esperto in Europa di Sanremo va bene e invece per voi sappiate che domani vi perdete la nostra casa natalizia perché da domani entriamo io lunedì la rivedo lunedì Paola Piggi la ritroveranno anche mentre tu Riccardo devi tornare a trovarci per vedere la casa natalizia assolutamente e allora io ringrazio però sono contento che ci sia Galli sono contento ma non te l'avevamo chiesto ah no è vero è già andato su Sanremo dai forse abbiamo qualche secondo no dai lo dico bene lunedì lunedì ti do tutte le mie pagelle le pagelle di Piggi Ulli Piggi va bene io ringrazio Elisabetta Roncati grazie a voi grazie al nostro Piggi la musica che può fare la differenza black out in digitale il singolo della flamma in bocca al lupo per tutto grazie a Valentina Paola Aspri continuate a donare a fare la differenza 4 5 57 vi lascio al TG Notte noi ci rivediamo domani alle 23.30 per l'ultima puntata della settimana fate bei sogni buonanotte vi lascio al TG Notte